Pochi giorni ancora partiranno gli appuntamenti di itinerario di religioni e gusti a Sala Consilina con iniziative che puntano a valorizzare la tradizione della comunità dal gusto alla religione passando per la bellezza del suo paesaggio. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cavallone avvalendosi della collaborazione dell'organizzazione della società operaia di mutuo soccorso Torquato Tasso presieduta da Michele Calandriello ha dato vita ad una serie di appuntamenti che arricchiranno questo mese di settembre partendo dal fine settimana del 17 e 18 settembre nel corso del quale prodotti tipici della tradizione locale unitamente al centro storico di Sala Consilina saranno protagonisti della due giorni di incontri enogastronomici con la possibilità di degustare numerose specialità culinarie autunnali e conoscere le attività artigianali locali e i loro prodotti. Sono inoltre previste anche visite guidate del centro storico. L'arte pittorica sarà protagonista invece a Sala Consilina a partire dal 24 settembre con il concorso di pittura sul tema A Sala, il tempo, lo spazio, il colore. Artisti da ogni parte d'Italia raggiungeranno Sala Consilina per realizzare le loro opere che saranno poi esposte nella nuova Pinacoteca Comunale del Palazzo Fiordelisi. Le opere vincitrici saranno premiate con premi messi in palio dalla Banca Montepruno nella serata conclusiva delle manifestazioni salesi programmate per il 30 settembre, serata in cui si chiuderanno anche i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo con la presenza Sala Consilina dell'attore comico, imitatore e musicista Francesco Cicchella che proporrà al pubblico il suo spettacolo diffidate dalle imitazioni show. Sala ha una tradizione di produzione di prodotti gastronomici che è secolare. Cerchiamo di valorizzare quelli che sono i prodotti di questo periodo, del periodo di settembre in questa rassegna gastronomica che sarà ambientata nel centro di Sala e sarà accompagnata da validi esponenti della cucina e validi esponenti del volontariato. Ci saranno anche degli stand di operatori di tipo artigianale per valorizzare i loro prodotti perché Sala e anche il territorio hanno dei prodotti che sono rinomati in tutto il mondo e noi cercheremo di farli valorizzare e di farli conoscere ancora meglio. Chi verrà per la prima volta a Sala o chi c'è stato e non conosce bene il centro storico di Sala, faremo dei gruppi accompagnati da volontari nostri che gli faranno visitare i luoghi più interessanti. Questo concorso di pittura ha già una storia a Sala perché è stato fatto anche negli anni precedenti. Il tema del concorso è il tempo, lo spazio e il colore, praticamente tutto quello che è possibile vedere intorno a noi. Sala ha un ricco patrimonio artistico, un ricco patrimonio culturale. Mi auguro che ci sia una larga partecipazione come mi hanno assicurato diversi artisti che saranno presenti a questa rassegna e abbiamo anche la presenza di importanti giurati nella commissione giudicatrice. La BCC di Roscigno-Montepruno è stata generosissima nell'assecondarci in questa manifestazione in quanto ha dato un valido aiuto per i primi tre quadri che saranno premiati. La premiazione avverrà il 30 settembre, in occasione della festività di San Michele e quindi si svolgerà sempre in piazza sul palco che allestiranno. Grazie a tutti.